Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono stati gonfiati i numeri dei ricoveri, ricoverando dei codici bianchi per ideologia da parte dei medici. Ora, io ricordo, anche se non ce n'è alcun bisogno, che un codice bianco è nessuna urgenza, il paziente non ha pericolo, non ha nemmeno bisogno dell'intervento del pronto soccorso e può rivolgersi al proprio medico. Questo è un codice bianco. Il direttore del Corriere dell'Umbria sostiene che i medici in scienza e coscienza abbiano gonfiato il numero dei ricoveri, saturando i reparti appositamente. Ora, le possibilità sono due. Dato che io non ho visto alcuna smentita da parte dell'assessore, alcuna smentita da parte della Giunta, alcuna smentita da parte dei direttori delle aziende ospedaliere delle Asle, o la cosa è realmente accaduta, e quindi questo getterebbe fortemente discredito sul sistema sanitario regionale, sull'azione dei medici, e prevedrebbe anche delle azioni conseguenti, quindi o la cosa è accaduta o la cosa è falsa, la cosa è inventata, la cosa è stata riportata sulla stampa mentendo. E in questo caso mi stupisce il fatto che non sia stata smentita, e noi siamo qua a presentare questa interrogazione per darvi l'occasione di smentirla, perché è molto grave ipotizzare che siano stati saturati appositamente i reparti, ricoverando dei codici bianchi che non hanno nemmeno bisogno dell'intervento del pronto soccorso. Allora, dato che addirittura questa notizia è apparsa sui profili social di alcuni componenti dei partiti di maggioranza qui, quindi rappresentanti istituzionali l'hanno data come notizia vera, credo che qui bisognerà fare un punto di chiarezza, e quindi capire se è vero o no quello che ha scritto il direttore, quali azioni intendono fare, oggi diamo l'opportunità alla Giunta di smentire, e anche come si intende tutelare l'immagine di chi lavora nella sanità pubblica, nel caso la notizia sia inventata. Grazie. Assessore Coletto. Sì, grazie Presidente. Allora, entrando nel merito ed evitando, come dire, speculazioni di confronti della sanità Umbra, corre l'obbligo di precisare che per quanto riguarda i codici verdi, come giustamente illustrato dal consigliere Bori, nel 2018 sono stati 24 gli accessi, gli accessi in codice bianco, chiedo scusa, in codice bianco, sono stati 24, che dopo una valutazione attenta da parte del medico, sono trasformati in ricovero. Evidentemente il medico avrà colto l'opportunità di farlo, e in totale vale il 2,25% rispetto agli accessi. Nel 2019 sono stati 152, che il medico dopo appunto la valutazione ha ritenuto opportuno di ricoverare, ed è e vale il 5,30%, nel 2020 fino ad ottobre sono stati 49% e la percentuale è il 3,69%, quindi percentuali molto lievi, e se il medico ha ritenuto di ricoverare, evidentemente da codice bianco è diventato verde piuttosto che giallo, e comunque c'era necessità di farlo, ma sono percentuali molto ma molto basse, che di sicuro non vanno ad occupare i 3.200 posti letto della regione dell'Umbria. Il dato per azienda, rispetto all'Ulss Umbria 1, i ricoveri da codice bianco sono 7, dal 1 di settembre all'11.11, sempre del 2020, su un numero di accessi in pronto soccorso in codice bianco totale di 1.259, per l'Umbria 2 sono 13, per un totale di codici bianchi che sono entrati in pronto soccorso in 1.106, nell'azienda ospedaliere di Perugia sono 6, su 439 accessi, e nell'azienda ospedaliere di Terni sono 20 su 581 accessi. Quindi reputo che i medici abbiano lavorato correttamente e che non ci sia nessun accesso o ricovero, meglio, ricovero inappropriato rispetto ai codici bianchi. Se il medico ha deciso di trasformare un codice bianco in verde piuttosto che in giallo e ricoverare, evidentemente c'era un motivo, ed era un motivo legato alla gravità delle situazioni del paziente. Grazie, Assessore Coletto. Consigliere Bori. Sì, grazie. Credo che oggi sia stata ristabilita la verità delle cose, smettendo Davide Vecchi, smettendo il Corriere dell'Umbria. Chiederei agli esponenti della maggioranza che hanno pubblicato quella notizia di rimuoverla, perché è una cosa che non corrisponde al vero, è grave e getta discredito per chi lavora nella sanità pubblica. Vi ricordo che le parole esatte sono state che non si spiegherebbero i tanti ricoveri di codice bianco registrato nelle ultime settimane altre singolarità, definiamole così, finalizzate a gonfiare i dati della saturazione ospedaliera, che in realtà non c'è. Quindi si nega la saturazione ospedaliera, si accusa la sanità pubblica di ricoverare i codici bianchi, tutte cose molto gravi, e fino ad oggi non c'era stata una smentita. Noi oggi abbiamo dato l'occasione di smentire e di, quindi, la notizia è inventata, non corrisponde al vero, ed è grave che sia apparsa ed è grave che sia stata rilanciata dai gruppi di maggioranza e dagli esponenti della maggioranza. E noi diamo qua oggi non solo l'occasione di smentire, ma ristabiliamo il fatto che le offese arrecate a chi lavora in sanità pubblica non corrispondano al vero. Credo che la Regione dovrebbe prendere delle contromisure quando accadono queste cose. Quando vengono diffuse delle fake news riguardanti la sanità pubblica in tutti i suoi aspetti, io ritengo che non solo vadano smentite senza che qualcuno porti un'interrogazione in Consiglio regionale, ma che la Giunta e le aziende debbano prendere delle contromisure, perché non si può dire tutto il contrario di tutto e non si possono dare pervere delle notizie gravi e false come questa. Grazie. Grazie Consigliere. Passiamo all'oggetto numero 20. Interrogazioni sulla necessità di una maggiore e più strutturata partecipazione politica, economica e sociale al fine di raccogliere istanze proposte per la ripresa economica, occupazionale e sociale dell'Umbria. Intendimenti della Giunta? Interrogante il Consigliere Bianconi, risponde la Presidente della Giunta, Donatella Tesei. Prego, Consigliere Bianconi. Grazie Vicepresidente. Questa interrogazione nasce dalla difficoltà sempre più forte che la nostra regione in tutte le sue manifestazioni, da quella sanitaria a quella economica, a quella sociale, a quella familiare, sta vivendo. Cioè una crisi senza precedenti. Figlia anche di una regione arrivata debole e questo ce lo dobbiamo onestamente ricordare a questa crisi, ma nello stesso tempo ci impone la necessità di guardare avanti per fare in modo che a questa incredibile difficoltà, che mina il futuro per molti Umbri in questa regione e che mina la qualità della vita di questa regione per gli anni a venire, di fronte a questo scenario che fa tremare le gambe a tutti, indubbiamente si ritiene opportuno che il metodo per costruire il futuro ed affrontare il presente debba essere diverso ed innovativo. diverso ed innovativo rispetto a quanto accaduto in questo anno di governo regionale, diverso ed innovativo rispetto a quello che è accaduto in generale negli ultimi anni di governo regionale. Quindi con onestà quello che mi sento di chiedere, e da qui nasce la mia interrogazione, se c'è una volontà, se si stanno utilizzando già degli strumenti di partecipazione strutturati, innovativi, reali, non telefonate fatte a qualche presidente di associazione di categoria o a qualche dirigente di qua e là. Parliamo di un salto di metodo che possa realisticamente mettere in condizione questa regione, partendo dal basso, e ribadisco partendo dal basso, di sfruttare tutte le competenze ed esperienze che ci sono all'interno di un progetto strutturato strategico di breve, medio e lungo periodo. Viviamo una crisi senza precedenti, abbiamo e avremo una flessibilità e risorse senza precedenti. Un'occasione irripetibile per chi è al governo di questa regione. Quindi quello che chiedo con questa mia interrogazione è che cosa si sta utilizzando e facendo e che cosa si ha in mente di fare. Si può scrivere una storia nuova, si può scrivere un futuro nuovo per questa regione. Vi invito e auspico che si abbia il coraggio di farlo. Su questo ci sentiamo murati fuori da questo percorso come minoranza e come consigliere di questa regione ci posso anche stare murato fuori. Mi piacerebbe che dentro invece ci siano molti, molti, molti soggetti che possano dare il loro contributo. Grazie. Grazie. Presidente, te sei? Sì, grazie Presidente. Voglio ringraziare innanzitutto il consigliere Bianconi per questa interrogazione. Non a caso ho voluto proprio rispondere personalmente. E questo perché mi dà modo di tornare su un tema notoriamente a me molto caro. Lo sviluppo economico è quello del lavoro della nostra regione, così duramente sfavorita da dieci anni di politiche economiche così sbagliate, da farci perdere quasi tredici punti di PIL, dieci in più rispetto al Paese e il 5,7% della spesa per consumi, quattro volte più rispetto sempre al Paese, alla media. L'interrogazione però si concentra su quali modalità di partecipazione io intendo adottare per il disegno di un modello di rilancio economico e occupazionale dell'Umbria. e anche in questo caso il tema mi è caro perché da quando sono arrivata il confronto con sindacati e associazioni di categoria è stato così stabile e continuo da rendere necessario addirittura due tavoli permanenti di Presidenza, uno con i sindacati che tengo regolarmente e l'altro con le associazioni di categoria. Non sono io, quindi non so che informazione ha il consigliere Bianconi che faccio qualche telefonata a qualche rappresentante di categoria. Io ho incontri stabili, ormai è un anno, con tutti i rappresentanti dell'economia e del lavoro, sia sindacali quindi che datoriali di questa Regione. Insomma, per farla breve, il confronto e le concertazioni con le parti sociali non sono momenti straordinari, ma un modo di governare forse inusuale ma distintivo. Avremo a breve un appuntamento istituzionale importante, la concertazione riguardo il documento di Economia e Finanza regionale 2021-2023, il DEFRE. Il documento, in pratica, dove si traccia la visione programmatica per l'Umbria in ambito economico, quello che noi pensiamo per l'Umbria nei prossimi tre anni. Ci sarà quindi modo di confrontarci con tutti gli attori, datoriali e sindacali, attorno ad un documento che ho già pronto, nonostante il giudizio di parifica della Corte dei Conti, che sia avvenuto solo qualche settimana fa. Spero appaia anche a voi un segno di idee chiare, pronta come sempre ad integrare, con le indicazioni proprio provenienti da questi tavoli. Il DEFRE sarà, come tutte le nostre azioni, in campo economico molto pragmatico. D'altronde avete già visto un robusto intervento regionale, ad aprile, un altro a settembre e un altro che ve ne sarà breve, sempre supportati dagli assessori Fioroni, Agabiti, Morroni e, per quanto di competenza, anche Melasecche, che hanno avuto il merito di intervenire più volte ed ulteriormente con misure dirette proprio degli assessorati. Ora, in questa fase di drammatica crisi pandemica, la ricetta economica è volta a sostenere con interventi, anche con sovvenzioni, ma sempre ben focalizzati, il tessuto economico e sociale che, infatti, in Umbria non si è disgregato. Allo stesso tempo, stiamo innestando misure di prospettiva per il rilancio dell'economia post-Covid. E 15 milioni di bando graduale nei prossimi mesi, proprio per ricerca e sviluppo, ne sono una vivida e coraggiosa testimonianza. Non ci limitiamo soltanto agli interventi che servono a tenere il sistema, ma anche che hanno una visione prospettica importante per questa Regione. Occorre ricordare anche che tutti questi interventi, nonché quelli che di qui a poco annunceremo per il 2021, sono finanziati, consigliere Bianconi, da fondi di bilancio reperiti grazie alla spending review, a fondi della programmazione e riprogrammazione delle risorse comunitarie, che l'Umbria nel 2019 non aveva saputo spendere. Eravamo, come sapete, tra i peggiori in Italia. E con l'assessore Agapidi abbiamo recuperato, primi tra l'altro tra le regioni italiane, queste risorse e le abbiamo immesse nel tessuto economico e sociale di questa Regione. Abbiamo idee e progetti precisi anche per gli eventuali fondi del PNR, ma ad oggi non sappiamo se questi famosi 209 miliardi tra fondo perduto e prestiti le regioni potranno utilizzarli, anche solo in minima parte, o per tutti deciderà solo il Governo. Noi comunque siamo pronti e vi posso assicurare che questa è una partita che sto seguendo molto da vicino, non solo come Presidente di questa Regione, ma anche come coordinatrice della Conferenza delle Regioni e della Cabina di Regia proprio sul PNRR. Allo Stato attuale, nonostante le numerose richieste, non abbiamo avuto risposte circa il fatto se le Regioni possano essere oltre che enti attuatori di eventuali progetti ministeriali e governativi, anche enti di promozione dei progetti. E l'altro tema importante è che nessuno ancora ci ha detto se le Regioni saranno destinatarie di una quota che potranno utilizzare nell'ambito delle linee guida del nostro Governo nazionale che si rifà alle linee guida della Commissione europea per interventi appunto territoriali. Quindi, al di là di quello che c'è sul panorama delle idee e delle prospettazioni, purtroppo ancora su questo nulla di preciso c'è. ma noi come Regioni ci siamo portati avanti quindi abbiamo già presentato il numero di schede progetto che naturalmente non avendo la contezza del quantum sono molto aleatorie seppure finalizzate agli interessi di questa Regione e alle mancanze purtroppo che questa Regione ha è accumulata da molto tempo. Siamo altrettanto pronti alla programmazione comunitaria 2021-2027 che però anche questa non è ancora nemmeno partita. Insomma, ci affacciamo al documento di economia e finanza regionale con tante belle speranze e suggestioni mediatiche su cui tutti contiamo ma per ora possiamo foggiare soltanto su quello che con le nostre forze siamo riusciti a reperire e a rimettere a disposizione dell'economia della nostra Regione per la tenuta economica e sociale di questi comparti che stanno soffrendo tutti molto. Grazie. Consigliere Bianconi, prego. Grazie Presidente per la risposta. Quello che le chiederei di fare è riuscire a superare un gap che è quello della conoscenza all'esterno di questi luoghi di confronto di quello che accade in questi luoghi di confronto perché mi sento mi sento di dire con alta diciamo possibilità di 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 certezza che se oggi noi usciamo e chiediamo ad un imprenditore grande e piccolo che sia qual è il problema che ci avevamo anche prima eh sottolineo qual è il disegno strategico di visione di prospettiva della nostra regione non è nessuno in grado di dare una risposta questo perché è importante è importante perché aiuta le persone a comprendere qual è la direzione la strada e a metterli in condizione di ottimizzare il proprio percorso formativo il proprio percorso di studi il proprio programma di investimento il proprio programma di ridisegnare la propria azienda in funzione di risorse che potrebbero arrivare alcune altre che ci sono e potrebbero essere ridisegnate e rimesse a sistema questo credo che rappresenterebbe un vero salto un salto che aiuta tutti a partecipare in maniera armonica ad un progetto unico condiviso che deve andare oltre oltre tre anni ma deve essere molto più spostato in avanti che deve gestire l'emergenza ma che deve essere fisso e tenuto lì c'è una città soltanto che in Italia è riuscita a fare questo si chiama Milano che ha fatto un progetto di prospettiva importante la condivisione è partita dal basso e a prescindere dal governo di destra e di sinistra ha mantenuto la barra dritta e è una città che compete nel mondo sarebbe bello riuscire a costruire qualcosa del genere nella nostra regione e mi auguro Presidente che con un salto ripeto rispetto a tutto il passato si possa fare sfruttando tutte le risorse disponibili grazie grazie a tutti grazie a tutti